E quindi per fortuna l'immercadante non ha demeritato e quindi non si poteva perdere alla fine della gara, si va ai rigori, si poteva vincere se il nostro Dennis faceva quel rigore, però il calcio è fatto così ragazzi, ti sbaglia, si fanno, quindi ha sbagliato Dennis ma poteva aver sbagliato qualcun altro e andava bene allo stesso. Lotteria dei rigori, 5 rigori questo 17 di gennaio 2018 tra i bianchi del Mercadante e Granata del Vanchiglia, è stato bello lo stesso quindi chiunque vinca adesso, una volta in finale è stato bello, è stata una bella esperienza anche questo bel torneo del Collegno Paradiso. Dai Matti! Dai! 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 Buongiorno! Dai! 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 le palle sono... le palle sono... dai Leo sto per ovviamente se ha fatto di coca come l'altra volta dai faccio così e provare a farla dai io 10 e 10 se ne è grande one single tanto bello mi saio dai in volo dai in volo dai in volo dai in volo dovevi salire tu sto guarda ma guarda che guarda 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 lo para te l'avevo detto te lo para che lo para bravo Matti grande Matti guarda guarda è 5 euro mini ti ha detto che lo può Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.